Allora io dico una parola Buonasera Buonasera e benvenuti a tutti Io porto via un paio di minuti e poi lascio la gestione di tutta la serata a Rosmina Riteri per ringraziarvi della presenza qua questa sera ma in generale per ringraziarvi della vostra presenza durante le attività culturali, i giovedì culturali dell'anno Questa è la nostra ultima serata per la stagione 2017-2018 Siamo contenti di concludere questa stagione in questo modo, su questo tema e in questa modalità a metà tra la relazione, la presentazione del libro e la parte musicale Ringrazio naturalmente tutti voi presenti, ringrazio lo staff dell'associazione in particolare quello dei giovedì culturali come ringrazio in maniera generica da Giorgio Guala a tutto il resto della famiglia Guala naturalmente per l'appoggio nella costruzione dell'attività culturale dell'associazione Oggi abbiamo avuto, mi permetto di rubarmi ancora un secondo dicendo che oggi abbiamo avuto una giornata interessante in cui lo staff ha avuto modo di prendere in ordine tutte le attività dell'associazione cultura di sviluppo non solo quelle dei relativi ai giovedì culturali È stata una giornata intensa ma secondo me molto importante per fare un bilancio di quello che abbiamo fatto quest'anno e per cominciare a ragionare un po' anche di quello che può succedere di nuovo mantenendo naturalmente le cose che ci sembra voi appreziate per gli anni successivi Su questo vorrei dire che avrete visto, alcuni di voi avranno notato che c'è una cassettina fatta a mano da noi sul tavolo di fianco alla vendita dei libri con al fianco dei volantini, delle stampe, dei fogli in cui vi chiediamo in generale di ragionare su quello che per voi non rispetto solo all'associazione cultura di sviluppo ma rispetto un po' al contesto culturale, formativo, di animazione culturale Alessandrino manca in questa città o magari che dovrebbe essere in qualche maniera potenziato suggerimenti che lasciamo liberi voi di deciderne la direzione ci serve, ci fa piacere perché ci pare un buon modo per aprirci a voi cioè ai frequentatori delle nostre attività culturali per cercare di mixare le vostre opinioni e i vostri desiderata rispetto ai prossimi anni di attività con quello che stiamo ragionando internamente per cui se riuscite a ritagliarvi un paio di minuti prima o dopo il buffet per prendere in mano uno di questi foglietti e compilarlo e restituircelo nella cassetta delle idee, bene, altrimenti per i più tecnologici arriverà anche una newsletter in cui verrà replicato lo stesso formulario diciamo in formato elettronico, potrete farlo più comodamente per alcuni direttamente così. Quindi vi ringrazio un'ultima volta a tutti quanti ringrazio qui al tavolo Rosmina per tutti quanti, per tutti gli altri presenti qui sul palco, Rosmina in maniera particolare perché questa serata viene dalla, probabilmente vi ha contattati uno ad uno in questi ultimi settimane per farvi essere presenti in questa sala ha agito un po' così anche con noi, nel senso che eravamo contentissimi di ospitare Gabriele per la quarta volta qui in associazione e la parte musicale l'ha agganciata Rosmina con tanta tenacia nel corso degli ultimi tempi, è un po' una specie di, oltre che chiusura di quest'anno sociale, è una specie di compleanno di Natale per Rosmina questa sera per cui ringrazio lei per ringraziare tutto il palco, ringrazio soprattutto voi buona serata e grazie. Buonasera a tutti, vi rubo poco tempo, diamo il bentornato a Gabriele del Grande che molti di voi conoscono, come ha detto Alessio è la quarta volta che viene da noi io le date, 2010, 2012, 2014, l'ultima volta nel 2014 con il film Io sto con la sposa Gabriele è giornalista, freelance, scrittore, stasera ci presenta il suo libro regista, fondatore e curatore dell'osservatorio sulle vittime dell'emigrazione Fortress Europe, mentre gli altri contano quanti ne arrivano lui da molti anni conta quanti non ne arrivano, quanti muoiono nel cimitero mediterraneo. Diamo invece il benvenuto a Gabriele bentornato, il benvenuto ai musicisti, sono Alessandro Sipolo, cantautore e il maestro Omar Gazzuli. Non era citato Omar nel volantino perché quando abbiamo fatto il comunicato non sapevamo ancora che c'era lui. Io ho conosciuto Alessandro Sipolo l'anno scorso alla cooperativa Maramao di Canelli, è una cooperativa che fruisce anche di un progetto della fondazione social, è una cooperativa di ex rifugiati italiani che fa agricoltura biologica e Alessandro lì era con la moglie di Gian Maria Testa che facevano un reading dell'ultimo libro di Gian Maria Testa da questa parte del mare e cantava testi di Gian Maria Testa e suoi. Perché Alessandro, oltre ad essere cantautore, lavora anche in uno Sprar, lui è di Brescia, che è il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed è collaboratore dell'osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università di Milano fondato e diretto da Nando dalla Chiesa. Non so quale brano esegue, eseguiranno due testi loro all'inizio e negli spazi di Dopo il Buffet e alla fine, da quale album lo trae, ma io ho sentito e conosco e amo l'album Eresie, di cui lui dice che in questo momento storico ha sentito la necessità di approfondimento e disobbedienza. Lo fa a livello musicale e a livello politico. Insomma, un disobbediente come Gabriele del Grande. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Il governo. Grazie a tutti. 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 e dopo un'altra. un mostaggio occidentale, un prete, quindi potrebbe essere una minaccia verso il Vaticano, verso l'Occidente, verso la Chiesa, mi sembrerebbe strano che fosse stato eliminato senza che la propaganda del terrore lo avesse rivendicato. Sarà che è la speranza di vederlo tornare indietro prima o poi. La Russia, diciamo, era, semplificando molto, era presente in Siria già da prima del conflitto, la Siria è sempre stata un po' un paese nell'area, diciamo, del blocco sovietico, diciamo, nello scacchiere, diciamo, dell'Unione Sovietica. In Siria la Russia aveva la sua ultima e unica base militare nel Mediterraneo, quindi la Siria era, diciamo, l'accesso nel Mediterraneo, che garantiva la presenza militare nel Mediterraneo della Russia. Quella presenza militare chiaramente si è molto accresciuta dopo la partecipazione alla guerra, a sostegno del regime di Bashar al-Assad. La Russia aveva anche altri motivi per intervenire a sostegno di quel regime, non soltanto per mantenere le sue posizioni militari, ma anche per guadagnarsi una posizione a livello internazionale, soprattutto nel momento in cui gli Stati Uniti invece hanno un po' arretrato sulla politica in Siria. E in ultima analisi c'è anche un discorso legato al gas, al petrolio. Alcuni analisti sostengono che il Qatar avesse, diciamo, come obiettivo invece sul fronte opposto, cioè sul fronte anti-Assad, quello, diciamo, di appunto rimuovere il regime per far passare un progetto di gasdotto che dal Qatar portasse il gas catarino direttamente nel Mediterraneo. Questo chiaramente avrebbe minacciato gli interessi russi sul commercio degli idrocarburi. Sul discorso dei white helmets, gli elmetti bianchi, insomma, ora senza entrare, sono state fatte moltissime polemiche su questa organizzazione, anche su molte altre. Io personalmente non ho mai fatto inchieste nello specifico su questa organizzazione. Posso dire però dal punto di vista personale di avere assistito durante i miei viaggi ad Aleppo piuttosto che a Idlib, quindi tra il 2012 e il 2013, in piena guerra, a tante, diciamo, organizzazioni, associazioni umanitarie che al di là, diciamo, dell'affiliazione politica, quindi al di là che appartenessero, diciamo, a un mondo dell'islamismo politico o meno, arrivano sul campo, portavano medici, portavano infermieri e curavano civili feriti sotto i bombardamenti. Nel senso che lì c'è una guerra, là ci sono i bombardamenti, anche soltanto pochi giorni fa da Idlib sono arrivate immagini devastanti che sulla stampa non hanno trovato spazio e a meno su quella italiana, ma insomma sono stati bombardati ancora una volta degli ospedali, ancora una volta un ospedale pediatrico e mentre noi ci perdiamo, no, in polemiche su chi finanzi o non finanzi queste associazioni, sul campo queste associazioni portano medici, portano infermieri, curano civili che muoiono sotto i bombardamenti sotto i bombardamenti di tutti, fra l'altro. Chiaro che Idlib bombarda la Russia, bombarda l'aviazione siriana, al Raqqa bombardavano gli Stati Uniti, da altre parti bombarda l'aviazione irachena, ma quando si bombarda una città, quando si bombarda un quartiere, al di là che in quel quartiere ci siano o meno delle basi, dei gruppi armati o degli eserciti, ma poi insomma le vittime sono spesso, per non dire sempre, i civili. Tutta una serie di discorsi invece legati più genericamente a una sorta di complottismo, per cui esperti da salotto analizzano su Photoshop, filmati, ritenendo tutto falso, quello che succede in Siria, ritenendo tutto fabbricato nel studio di Al Jazeera, piuttosto che di altre tv, quello che succede sul campo. Sono tutte polemiche che lasciano il tempo che trovano, sono tutti strumenti di propaganda che tendono a beatificare una parte del conflitto e a condannare l'altra. Io quei morti tra i civili, quei massacri tra i civili, quei bombardamenti sugli ospedali, sulle scuole, l'ho visto con i miei occhi quando stavo ad Aleppo e a Idlib. Poi la propaganda esiste da entrambi i lati della guerra, nel senso che gli Stati Uniti che condannano l'uso delle armi chimiche a Duma, vi ricordate qualche mese fa, 60 civili, si ricordo bene, uccisi dalle armi chimiche usate dal regime a Duma. In quegli stessi giorni si condannava il regime, non si spendeva una parola sui turchi, esercito della Nato, che sul fronte opposto, Afrin, cantone kurdo, spalleggiando le milizie filo-turche, islamiste salafite di Idlib, conquistavano il cantone kurdo facendo 120 morti tra i civili. erano armi convenzionali, erano missili, erano mortai, erano colpi di cannone e di carri armato e nessuno ha detto niente. Così come nessuno dice niente quando sono, non lo so, l'aviazione dell'Arabia Saudita che bombarda i civili sullo Yemen, piuttosto che l'esercito israeliano che apre il fuoco sui manifestanti a Gaza. Siamo arrivati al paradosso che, tra i pochi a criticare le vittime civili tra i palestinesi fatti dall'esercito israeliano, c'è stato addirittura il ministro degli esteri siriano, quando il regime siriano ha sul conto personale centinaia di migliaia di vittime tra i civili. In guerra la verità è la prima vittima, ognuno nasconde dei fatti e ne ingigantisce altri. Io per la mia esperienza sul campo ho visto morti, ho visto stragi da entrambi i lati. Anche quando ero da l'Eppo cadevano i bombardamenti aerei del regime sui quartieri controllati dagli insorti, gli stessi insorti rispondevano sparando missili artigianali o colpi di mortaio sui quartieri controllati dal regime. E verosimilmente quelle bombe cadevano a loro volta su mercati, su scuole o su piazze colpendo dei civili, non certo delle caserme militari. Quindi insomma vi invito a fare un po' la tara su certe propagande e insomma è una guerra in cui nessuno ha delle armi spuntate. E questo. Sulla Grecia, Turchia, Sbarchi, cosa sta accadendo? Non è un tema in questo momento che sto seguendo da vicino, non lo sto seguendo affatto. Quindi non aprirei questo tema. Se non al massimo possiamo, diciamo più come analisi, magari più che come ultimi sviluppi, più come analisi, delle cose le possiamo dire. Possiamo dire che, magari legandosi anche alla domanda di qualcuno che diceva, citava la lettera Salvini, perché è abbastanza simile come dinamica, nel senso che l'Europa con la Turchia ha fatto quello che l'Italia da 15 anni esattamente sta facendo con la Libia, cioè pagare, armare le polizie dell'altro lato della frontiera affinché fermino le persone prima di partire. Ora nella Turchia c'è anche un aggramante, perché la Turchia, insieme alla Francia, la Gran Bretagna, Stati Uniti, Qatar, Arabia Saudita, è uno di quei paesi che ha finanziato il conflitto in Siria, da un lato. Dall'altro la Russia e l'Iran, che hanno invece sostenuto il regime. E quindi è corresponsabile di quei 12 milioni di sfollati che la guerra in Siria ha fatto, di quei 5 milioni di siriani che hanno lasciato il paese, e di quei 3 milioni si stima che hanno raggiunto la Turchia, che è un paese confinante con la Siria. Dopodiché su questo ci ha giocato molto Erdogan quando ha aperto la frontiera, ha incoraggiato le mafie del contrabbando a mandare più persone possibili in Grecia. Vi ricordate la crisi balcanica, cos'era il 2015-2016? Un po' serviva ad alleggerire la pressione interna in un paese dove crescevano le tensioni contro i siriani. La solita guerra tra poveri, il solito schema. E un po' per ricattare l'Europa e chiedere in cambio i famosi 3 più 3 miliardi, 6 miliardi di euro che abbiamo sganciato a quello che poi la stessa Europa decide come un regime. Erdogan che sì ha vinto tutte le elezioni in cui si è presentato, ma che di fatto da un paio d'anni a questa parte ha messo in piedi una deriva autoritaria che dopo il fallito colpo di Stato dell'estate del 2016 ha portato in prigione più di 50.000 persone. Qualcuno erano effettivamente militari che avevano a che fare col colpo di Stato, la maggior parte erano studenti, professori, giornalisti, avvocati, addirittura parlamentari. Ha approfittato di quel momento lì per far piazza pulita di qualsiasi voce fuori dal coro, di qualsiasi critica, di qualsiasi dissenso che c'era nel paese. Io quando tornai dalla mia disavventura turca e dissi sono soltanto uno dei 200 e passa giornalisti turchi arrestati e nel mio caso, tra l'altro, credo che fra tutti fosse il meno complicato, nel senso che in quattro decisioni si è risolta, gli altri stanno ancora dentro e sono sotto processo per terrorismo. La stessa cosa noi facciamo in Libia, la facciamo dal 2003, all'epoca c'era ancora Gheddafi, all'epoca pagavamo direttamente il regime libico perché costruisse delle prigioni, perché si riprendesse le persone fermate in mare, perché le rinchiudesse in quelle prigioni, che gli stessi inviati delle missioni europee definivano come posti disumani. E oggi la strategia, diciamo, da dopo il caos libico, da Minniti in poi, è quella di pagare invece direttamente le milizie, che in ogni regione controllano un pezzo di Libia e che sono colluse con le mafie del contrabbando. Noi abbiamo andato i servizi segreti appunto in Libia a comprare queste milizie, queste mafie, a negoziare direttamente con i capi del contrabbando. L'operazione è stata un po' quella di fargli guadagnare un euro in più fermandoli, piuttosto che facendoli attraversare il mare. E forse anche, come dire, le nuove partenze di questi giorni forse sono un messaggio ai servizi italiani, perché cambia il governo e c'è bisogno di sapere, no? Se cambia anche la posta in gioco o se c'è un rincaro di queste politiche. Noi, per l'altro, non sappiamo nulla. Mentre sappiamo che alla Turchia abbiamo smollato 6 miliardi, della Libia non sappiamo nemmeno quanti soldi abbiamo dato alle mafie libiche perché cessassero quel traffico. I risultati li abbiamo visti, il meno 90% degli arrivi quest'anno rispetto all'anno scorso, nonostante le polemiche di questi giorni. Però quel meno 90% di arrivi quanto è costato, no? Quanti miliardi? Che poi sono soldi nostri, sono soldi di contribuenti, sono soldi con cui probabilmente si potevano fare tante altre cose. Tipo creare lavoro, tipo aprire asili nido, tipo creare case popolari, insomma, tipo spegnere tutti quei focolai, no? di guerra tra poveri che poi ci si fanno, no? Perché? Perché non ci sono abbastanza servizi, perché il welfare non è abbastanza, come dire, capiente per tutti. C'è questa sensazione che siamo in troppi sulla barca, che bisogna buttare qualcuno di sotto, perché non ci sono soldi per tutti, no? La guerra tra poveri nasce lì. E anziché andare a intervenire lì sulle politiche sociali, questi soldi là invece li dirottiamo su politiche di repressione alla frontiera, che secondo me, quello che provavo a scrivere in quella lettera su Facebook, che è diventata virale, ma in frattempo è stata condivisa più di 15.000 volte, in cui dicevo, attenzione, dicevo, se salviamo, perché di fatto, il punto è che di fatto, oddio, non farei uscire troppo, beh, facciamo una piccola parentesi, poi torniamo sul libro. Il punto qual è? Il punto è che di fatto, diciamo, su una cosa sono d'accordo con Salvini, per quanto vi sembrerà strano, e sono d'accordo sul, diciamo così, assumiamo che Salvini sia sincero, quando dice che vuole chiudere la rotta libica, vuole lottare contro le mafie libiche del contrabbando, vuole azzerare gli sbarchi, e vuole che in mare non ci muoia più nessuno, io sono d'accordo, io sono il primo che sogna un mare senza più sbarchi, senza più morti, senza più tragedie. Ora, sono 15 anni che la politica italiana ed europea, questa cosa prova a farla, pagando la polizia libica prima, oggi le milizie, affinché fermino quelle persone prima di partire. Io, diciamo, avendo visto in questi 15 anni il continuo ripetersi, il continuo fallimento di queste politiche, penso, diciamo, che questa roba non funzioni. E perché penso che non funzioni? Perché i sbarchi una volta non c'erano. Noi mai siamo abituati a pensare che sia una cosa normale, ma prima degli anni 90, se ci pensate, non esistevano gli sbarchi. Non so se vi siete mai chiesti come mai. Non c'erano gli sbarchi, perché ancora, fino all'inizio degli anni 90, esistevano i meccanismi dei visti. Cioè un ventenne senegalese o etiope che voleva venire in Italia o in Francia andava all'ambasciata italiana o francese con un passaporto, chiedeva un visto, provvedeva alle rispettive carte e garanzie che venivano richieste, che erano abbastanza ragionevoli, e gli veniva concesso un visto, si comprava un biglietto aereo e arrivava in Italia o a Parigi. Il visto durava tre mesi, una volta che scadeva usciva in un altro paese, lo rinnovava, alla fine trovava un lavoro, più o meno si sistemava. Quelle vie legali lì di ingresso, ovvero i visti, oggi in Africa sono, diciamo, un privilegio dei figli delle elite, cioè i figli delle classi più ricche, africane, figli dei ministri, dei grandi imprenditori, dei personaggi dello spettacolo, certo, i visti glieli diamo, vengono a Milano a fare shopping da Prada e poi tornano a casa, ma tutto il resto, c'è la classe media, le classi popolari, quei visti non hanno più accesso. Le ambasciate europee non rilasciano più i visti. Non esiste nemmeno il cosiddetto visto per ricerca di lavoro. Cioè, mia sorella, quando emigrò in Australia, andò all'ambasciata australiana e chiese un visto per ricerca di lavoro. Gli venne chiesto una serie di garanzie, sei mesi di visto, andò in Australia, si trovava un lavoro e al sesto mese convertì quel visto in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dite voi, una cosa logica, normale. Questa cosa logica, normale, in Italia non esiste. E non solo in Italia, in Europa, perché il problema è europeo. Anche lì, quando Salvini dice l'Italia è una frontiera europea, dice una cosa vera. Tant'è vero che di quei 3-400 mila che sono arrivati in Italia negli ultimi 4 anni, via mare, più di metà sono andati via dall'Italia. E l'altra metà sono ancora in Italia perché nel frattempo ne hanno preso le impronte digitali, altrimenti sarebbero andati via anche loro. Perché? Perché al nord c'è lavoro, in Germania, in Svezia, in Manimarca, è tutto più facile perché c'è ancora un'economia che ha bisogno di lavoratori. L'Europa è, diciamo, demograficamente parlando, un continente che invecchia, un continente che da decine di anni importa manodopera a basso costo. Negli ultimi 20 anni ha deciso quella manodopera di importarla da alcuni paesi e non da altri. Che vuol dire? Vuol dire che ha tolto i visti, ha liberalizzato i visti con paesi come l'Albania, come i Balcani, come la Romania, la Polonia, l'Ucraina, ha semplificato tantissimo il meccanismo dei visti con il Sud America. Cioè abbiamo scelto dove andare a prendere i lavoratori che mancano all'appello, soprattutto i lavoratori a basso costo, stiamo parlando. Sull'Africa abbiamo, diciamo, deciso politicamente di lasciare l'Africa fuori dalla globalizzazione e dal mercato del lavoro. Parlo appositamente di lavoro perché il flusso che arriva via mare in Italia in questo momento negli ultimi 3-4 anni è un flusso di lavoratori. Nella maggior parte dei casi sono persone che partono per cercarsi un lavoro, non hanno accesso ai visti in ambasciata, l'unica via che è rimasta aperta è quella del contrabbando libico. Le mafie in Libia hanno il monopolio del viaggio tra l'Africa e l'Europa, che vuol dire che quei 100-150 mila che ogni anno decidono di lasciare l'Africa per l'Europa, l'unico modo per farlo è andare in Libia. Spendere fra tutto, fra il deserto, il mare, le prigioni, la corruzione, magari l'equivalente di 4-5 mila dollari, 4-5 mila euro e arrivare in Italia magari dopo un anno di viaggio, stremati, traumatizzati, nel frattempo magari arrestati, con tutto quello che succede nelle prigioni libiche. Queste 6 persone sostiene una scuola di pensiero con cui io mi ritrovo molto, quello stesso viaggio potrebbero farlo legalmente, in modo sicuro, a loro spese, potendo avere un visto in ambasciata, un visto europeo che li mettesse in condizioni di venire a cercare lavoro in Europa, spendendo magari 300-400 euro di volo e investendo il resto dei 4-5 mila euro che costa tutta quella traversata per mantenersi, affittarsi un posto letto da qualche parte e fare esattamente quello che hanno fatto gli altri 5 milioni di lavoratori immigrati che vivono in Italia che non sono passati da centri d'accoglienza, sono passati da rimboccarsi le maniche, esattamente come fanno 5 milioni di italiani immigrati all'estero, io sono uno di loro, che sono andati e si sono rimboccati le maniche, esattamente come vorrebbero fare i 100.000 parcheggiati nelle accoglienze in Italia, che anche loro sono partiti per rimboccarsi le maniche, ma poi si sono trovati intrappolati nella burocrazia perché diciamo al netto di tutte quante le polemiche sull'accoglienza che si possono fare ma poi finché non hai un permesso di soggiorno non puoi firmare un contratto e c'è questo percorso assurdo per cui un anno, un anno e mezzo, due anni per avere questi famosi documenti che poi alla fine non arrivano, questo è anche il problema, no? C'è questo percorso a ostacoli il cui esito finale come in un gioco nell'oca è di ritornare alla casella del via senza documenti e senza documenti non firmi il contratto, senza documenti non viaggi, non ti sposti in Europa perché magari in Italia il lavoro non c'è ma magari a Berlino c'è tuo fratello, c'è tuo cugino, magari c'è un lavoro a Stoccolma, magari c'è un lavoro a Copenaghen, ecco secondo me diciamo a livello pragmatico, al netto delle polemiche che possiamo credere sulle vicende anche di questi giorni si potrebbero alzare i toni arrabbiarsi molto però dico siccome dall'altra parte dicono che invece sono guidati dal buonsenso e dal pragmatismo allora se si parla di buonsenso secondo me si dovrebbe veramente ragionare su riaprire quel canale legale che una volta faceva sì che la gente viaggiasse in aereo anziché sulle barche dare alle persone un visto europeo affinché non rimangano intrappolati in Italia e dare alle persone un visto per ricerca di lavoro dare alle persone una possibilità legale per andare e inseguire la propria fortuna come nel mondo globalizzato di oggi fanno un po' tutti perché nel mondo di oggi viaggiare non è un'esclusiva della disperazione ognuno di voi se guarda nella propria famiglia avrete un parente o qualcuno o che ha fatto l'erasmus o che è andato a lavorare all'estero o che sta per fare le valigie non siamo in guerra non siamo particolarmente disperati è semplicemente che il mondo è diventato globalizzato e ognuno insegue più o meno la propria la propria chimera a seconda del passaporto del passaporto che ha poi chiaramente tutto questo è un bel discorso che va a scontrarsi con prima di tutto con tanti paesi europei che diciamo magari in toni un po' più da burocrati e meno da osteria ma sono profondamente d'accordo con Salvini e con quello che sta facendo in queste ore allora c'era una domanda un po' complicata sui fratelli musulmani e sì se non sono in donne per quel lavoro lì in quella zona non dovrebbero essere utilizzati questo sì si è spiegato attualmente funziona così ma è un sistema che non funziona spiego perché cioè attualmente ci sono i decreti flussi cosiddetti che in realtà adesso sono un pochino fermi perché appunto il paese è in crisi cioè in Italia non c'è bisogno di mano d'opera al contrario sono troppi disoccupati quindi non fanno più i decreti flussi ma fino a qualche anno fa venivano fatti ogni anno i decreti flussi cioè i famosi 5 milioni di lavoratori immigrati che sono in Italia sono qua non perché hanno invaso con i barconi l'Italia ma perché ogni anno a partire dagli anni 90 tutti gli anni i vari governi di destra o di sinistra sulle richieste appunto degli imprenditori degli industriali eccetera eccetera facevano il conto di quanta mano d'opera mancava di quei lavori a basso costo sottopagati che diciamo poca gente era disposta a fare e facevano questi decreti flussi 200.000 300.000 queste erano le cifre ogni anno 200.000 300.000 con un meccanismo però talmente arzigogolato scritto con la pancia con l'ideologia anziché con lo spirito pragmatico per cui si diceva siccome noi vogliamo soltanto lavoratori siccome noi vogliamo soltanto persone per bene tu devi andare in ambasciata con il contratto di lavoro ci dimostri che qualcuno ti sta per assumere e noi ti diamo il visito per l'Italia ora alzi la mano chi di voi assumerebbe mai un perfetto sconosciuto dall'altra parte del mondo io non assumerei mai perché un italiano che non conosci intanto lo prendi magari per un periodo di prova e poi decidi se assumerlo oppure no gli fai un colloquio guardi il curriculum qua si parla di assumere il meccanismo prevedeva teoricamente poi vi spiego come funzionava in pratica però in teoria prevedeva che tu imprenditore italiano straniero che fossi comunque imprenditore in Italia mandavi il contratto all'ambasciata italiana che ne so in Ghana il perfetto sconosciuto che tu stavi assumendo si presentava in ambasciata questa è la teoria siccome in teoria così non funziona perché nessuno assume uno che non ha nemmeno mai visto in faccia ed è normale che sia così anche con un italiano o con un vicino di casa succedeva invece che la gente arrivava in Italia fondamentalmente appunto da quei paesi dove era facile ottenere i visti Sud America Est Europa il visto turistico scadeva dopo tre mesi per legge un visto turistico non si può convertire in un permesso di lavoro anche se c'è un contratto di lavoro scade il visto inizia la clandestinità cosiddetta in Italia è facile lavorare in nero è facile anche guadagnarsi la fiducia di qualcuno se sei una brava persona lavorando in nero magari per un periodo in una fabbrica piuttosto che perso qualcuno arriva il decreto flussi l'imprenditore che a volte era una brava persona che ti dava la mano a volte era uno che ti vendeva un contratto per 5.000 euro c'erano anche queste cose qua ti dava il contratto tu con un passaporto col visto scaduto tornavi a casa tua in Ghana in Romania o in Sud America all'aeroporto chiudevano un occhio perché sapevano come funzionava il giochino e tu andavi all'ambasciata col contratto di uno dove avevi lavorato in nero 5-6 mesi ora è un modo ovviamente vi siete persi durante il ragionamento però la morale è che c'è un modello attualmente in vigore che è parecchio diciamo arzigogolato che prevede diciamo quasi come tappa forzata qualche mese di lavoro nero qualche mese di clandestinità a meno che quel contratto non te lo compri perché poi c'è un altro giro invece c'è gente che si è fatta ricca vendendo contratti a perfetti sconosciuti dall'altra parte anche perché poi non c'è l'obbligo di assumerli tu gli fai una proposta di lavoro poi se entro 8 giorni dall'arrivo in Italia non li registri finisce lì la cosa non c'è nessuna persecuzione e quindi tantissimi sia italiani che stranieri cioè imprenditori in Italia vendevano queste lettere insomma immaginatevi 5.001 5.001 ne fa anche una decina una ventina ogni anno insomma era un bel business e questo semplicemente per dire che secondo me se si mettessero serenamente tutti intorno a un tavolo a cercare una soluzione un po' pragmatica probabilmente qualche cosa la potrebbero immaginare non da soli però con l'Europa perché c'è il mercato del lavoro è un mercato europeo ormai quindi se non si ragiona in termini di però se me dovrebbero proprio cominciare a ragionare in termini di lavoro anche perché l'accoglienza l'integrazione la fa il lavoro l'accoglienza non può essere una cosa a carico della società vita naturale durante l'accoglienza la fa il lavoro e la fanno soprattutto quei territori dove c'è più lavoro dove c'è più richiesta come è naturale che sia e questa cosa quindi va fatta tutti insieme sui fratelli musulmani torniamo un attimo nel mondo siriano ora cerco di rispondere senza che tutto il pubblico si perda perché è una domanda un po' complessa diciamo che fondamentalmente il punto è che i fratelli musulmani non sono un'unica entità cioè in ogni paese c'è un partito in alcuni paesi sono legali in alcuni paesi sono al potere penso alla Turchia penso a Tunisia penso al Marocco in altri paesi sono considerati formazioni illegali penso all'Egitto penso alla Siria e quindi diciamo in base alle dinamiche di conflitto interno poi hanno anche alleanze che sono diversissime fra loro un caso molto semplice Morsi diciamo i fratelli musulmani in Egitto in un primo momento erano appoggiati dagli Stati Uniti stessi dopo il colpo diciamo dopo no che è stato destituito Mubarak e c'era no la linea era un po' quella lì diciamo la linea Obama diciamo così di tentare di appoggiare l'islam politico gli islamisti politici moderati in Egitto nonché a diritto anche in Siria comunque si va ad armare le milizie e c'è un tentativo su pressione della Turchia del Qatar della Turchia di dare l'autorità politica al partito dei fratelli musulmani mentre invece in un primo momento il potere anche dell'esercito libero era in mano a una serie di ex ufficiali dell'esercito siriano era un altro discorso non era un discorso né islamista né neanche partitico erano proprio i militari gli stessi sauditi che in Siria appoggiano i fratelli musulmani sono quelli che invece in Egitto hanno appoggiato il generale Sisi e l'esercito nella caccia nella guerra ai fratelli musulmani i sauditi sono fra l'altro anche lì sono una cosa strana perché i saud saud è la famiglia regnante che dà il nome all'Arabia saudita saud è il nome di un clan il nome della famiglia reale e i sauditi sono tutto tranne che amici degli islamisti attenzione i saud sono una monarchia sono una famiglia regnante e quindi la cosa che più temono al mondo sono gli islamisti in casa propria perché un partito un partito islamista è per definizione contro la monarchia i saud sono visti come usurpatori da tutti gli islamisti del mondo tranne da quelli che prendono miliardi invece dalla 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 monarchia saudita in Siria hanno appoggiato i fratelli musulmani hanno appoggiato gruppi salafiti in Egitto hanno fatto il contrario quindi bisogna sempre guardare chi è il nemico di chi non c'è mai nessun automatismo spesso ci sono veramente delle contraddizioni allucinanti rispetto ai gruppi takfiri cosiddetti takfir per chi lo sente la prima volta la prima volta vuol dire scomunica in arabo gruppi takfiri è un'espressione con cui appunto si chiamano le formazioni come lo stato islamico come Al Qaeda che appunto diciamo basano la loro ideologia sulla scomunica non tanto e non solo degli infedeli o delle altre religioni o della democrazia stessa ma soprattutto degli altri musulmani dei musulmani ipocriti cosiddetti dal loro punto di vista cioè loro hanno un'ortodossia ultraconservatrice e chi non sta con loro è contro di loro i fratelli musulmani sono i primi ad essere scomunicati da questi signori cioè dal punto di vista di Al Qaeda o dello stato islamico i fratelli musulmani sono visti come degli eretici dei rinnegati dei miscredenti perché? perché accettano la democrazia diciamo che se vogliamo andarci un po' con l'accetta per semplificare molto se no ci perdiamo c'è l'islam privato come una religione privata come un fatto privato che è quello che riguarda la grande maggioranza del mondo musulmano c'è l'islam politico che attenzione non ha queste percentuali bulgare come ci possiamo immaginare e noi abbiamo le prove perché basta guardare quanti voti ha preso Morsi in Egitto quanti voti prende il Nakhda in Turchia quanti voti prende Erdogan è un partito è un partito che ha un grande consenso ma non è diciamo no l'un plan la società anche lì sono tante sfumature ed è molto complesso diciamo che i fratelli musulmani i partiti gli islamisti che credono nella forma partito in qualche modo accettano il gioco le regole della democrazia cioè credono che c'è l'obiettivo è lo stesso cioè fondare una società che in qualche modo il cui diritto in qualche modo si ispiri al diritto musulmano di cui esistono tante versioni tante scuole quella saudita e quella dello stato islamico che sono le stesse sono quelle più diciamo conservatrici più dure più rigide più oscurantiste poi esistono altre tre scuole che sono maggioritarie e che sono completamente diverse perché ammettono la ragione ammettono l'analogia ammettono tutta una serie di metodi diversi che non sono l'interpretazione letterale di un testo di 14 secoli fa poi diciamo dal laico io almeno personalmente sono comunque contrario a invischiare la religione con la politica però se lo guardo da fuori faccio un po' uno sguardo faccio la lezione cina vi dico questi così dicono questi dicono facciamo il partito vinciamo le elezioni cambiamo le cose dentro il parlamento poi ci sono altre forme di islamisti politici che invece rifiutano la politica parliamo del mondo di una parte importante del mondo salafita in arabo li chiamano i salafiti della dawa salafiti è una parola che viene dall'arabo salaf salaf significa gli antenati in poche parole quindi i salafiti sono quelli che ritengono che all'epoca del profeta maometto muhammad e dei suoi primi successori ritengono che ci regnasse la giustizia quindi nel loro pensiero politico religioso si ispirano a quel periodo a quel primo periodo storico alle prime leggi che furono codificate in quel primo periodo storico in cui fin dall'inizio il profeta fonda una religione ma fonda anche uno stato e scrive le leggi di quello stato che sono scritte sono diciamo sono in realtà sono state scritte successivamente però insomma ci sono dei detti e dei fatti che vengono ricordati di quel periodo là a cui si ispirano questi salafiti quindi hanno una visione decadente cioè il futuro non è il progresso ma il futuro è tornare indietro a quell'epoca aurea quando le cose andavano bene questo si chiama salafiti tra i salafiti ci sono due scuole di pensiero una scuola che paradossalmente è maggioritaria in italiano la chiamano quietista è una scuola diciamo missionaria una scuola che crede nella predica sono predicatori sono persone sono bigotti sono conservatori sono quello che volete voi ma rifiutano non soltanto la violenza ma anche la politica cioè rifiutano sia la forma partito sia la democrazia stessa il diritto laico ma rifiutano anche la guerra la violenza perché? perché credono che il cambiamento arriverà dal basso cioè nella loro diciamo interpretazione dicono finché tutti la società dal basso la società musulmana dal basso non si riconvertirà verso la purezza perduta parlo chiaramente mi sto mettendo con le loro parole le cose non cambieranno poi c'è il salafismo jihadista invece che crede nel jihad crede nella guerra fa un discorso radicale no? e dice il cambiamento avviene solo con la forza la guerra è la madre della storia no? soltanto la guerra cambierà la società soltanto la guerra con la forza stabilirà la sharia e l'interpretazione più rigida più conservatrice del diritto islamico qui sono le tante scuole di pensiero che confliggono una con l'ora e una con l'altra e i takfir il takfir della scomunica è una sorta di meccanismo autodistruttivo non solo della società musulmana ma di questi stessi movimenti islamisti a un certo punto lo stato islamico i giudici gli ideologi dello stato islamico scomunicano al-qaeda cioè per loro al-qaeda sono degli rinnegati degli eretici degli infedeli non soltanto fratelli musulmani a un certo punto dentro lo stato islamico alcuni predicatori scomunicano al-bagdadi cioè il califo l'autoprogrammatosi califo lo stato islamico lo scomunicano cioè per questo meccanismo autodistruttivo della ricerca di questa idea che c'è una purezza da inseguire che chiunque si discosti da quella purezza va scomunicato e quindi ucciso perché a quel punto c'è l'obbligo di ucciderti in quanto rinnegato in quanto finto fedele questo è il motivo per cui vi dicevo prima dal 2003 in poi i musulmani sono quelli che hanno pagato il maggior numero di vittime di tutte le azioni terroristiche di guerra di questi signori dopodiché è normale noi siamo in Europa è normale che ci colpisce di più un attentato a Parigi che non 7000 attentati a Baghdad o a Damasco sono più vicini al nostro immaginario ci sentiamo entrano altre dinamiche in ballo però tenete a mente anche questa cosa qua che siamo tutti vittime di questa cosa qua quindi più o meno questo credo di avere esaurito tutte le 37000 domande ce ne saranno altre forse ce n'è una una che temi per i pericolosi però ce n'è una poi dopo questa domanda e la risposta se non ce ne sono altre avremo ancora ce ne sono altre va bene alla fine un altro intervento musicale di un testo di Gian Maria Testa dopo dopo allora premesso che a me riesce abbastanza difficile credere alla buona fede di Salvini no era un ambro perché è una battuta i toni che usa sono troppo asperi e l'arroganza e proprio il potere se pensiamo anche a chi guarda sul piano internazionale e quali le anze io lei dice che non nel caso di arrabbiarsi io infatti quando cerco di non arrabbiarmi però io distolgo lo sguardo quando lo vedo comunque questa è una premessa la domanda è un'altra sulle donne cioè le donne come oppressione all'interno dell'ISIS e le donne da quanto so in alcuni paesi come la rivendicazione di diritti perché ci sono anche queste vabbè questa è un po' la so anche io per qualità Gabriele hai parlato molto di servizi segreti per me è un termine abbastanza oscuro piacerebbe se tu delucidassi il concetto di servizi segreti rapporti con le istituzioni regolari con le eserciti polizie chi sono i servizi segreti ho sentito una cosa molto interessante cioè i salafiti quietisti se magari potesse descrivere il nome delle organizzazioni o i paesi dove sono diffusi appunto questi poi una diciamo una curiosità gli alawiti siriani erano solo una minoranza praticamente come i drusi del libano e praticamente una religione molto particolare adesso gli alawiti vengono definiti sciiti come se fossero omologhi mi sembra adesso non so se è giusto alla scia iraniana ecco non so qual è il motivo e se è corretta questa osservazione vado allora provando ad essere sintetico che sono anche queste tutte domandine molto facili e vabbè chiaramente diciamo sotto lo stato islamico diciamo non è che le donne avessero questo grande ruolo come è facile forse immaginarsi diciamo nella propaganda nei testi loro nella propaganda che diffondevano la donna era un po' diciamo era vista unicamente come madre la madre della nuova nazione la madre dei nuovi figli di questo stato nascente di questo nuovo mondo che avevano messo in piedi però relegata unicamente allo spazio domestico quindi cioè fuori dalla casa la donna non aveva nessun ruolo nemmeno lavorativamente in uno spazio pubblico non era ammessa dove essere coperta dove essere coperta completamente e l'unico ruolo che avevano erano magari a livello di anche lì di servizi segreti magari come informatrici le mogli magari degli agenti dei servizi del doula magari erano in grado di pedinare altre donne di raccogliere informazioni di verificare se erano in contatto con altri servizi se facevano le spie oppure c'era il discorso della polizia morale a racca come in tutto quel quel mondo viene messa in piedi sul modello saudita una polizia morale una polizia religiosa diciamo la hezba si chiama questa hezba c'è un contingente diciamo femminile che si occupa di controllare le donne cioè controllare le donne per strada come escono vestite di controllare se c'è una coppia se quella donna sia effettivamente la moglie dell'uomo che ha a fianco oppure una parente stretta la donna non si può spostare a racca nel momento in cui la città è controllata dal doula una donna non si può spostare senza un uomo al suo fianco che non sia appunto suo padre o un fratello o il marito quindi vengono controllate nello spazio pubblico la donna è super controllata con una serie anche di effetti collaterali in realtà che non saprei come definire nel senso quantomeno paradossali nel senso che in una città comunque era una città in guerra dove durante i bombardamenti soprattutto scarseggiava tutto dove c'erano milioni di sfollati perché a racca prima che arrivasse lo stato islamico sono arrivati gli sfollati delle città vicine dove si combatteva a racca per un certo periodo all'inizio sono state un po' di manifestazioni nel 2011 poi per un anno è rimasta tranquilla la città era una città lealista fondamentalmente dove le famiglie più importanti i clan più importanti erano molto leali al regime c'era una serie anche di basi militari vicino alla città che ne garantivano la sicurezza ed è caduta invece la città in un blitz molto rapido molto veloce inaspettata a sorpresa in cui la Turchia ha avuto un ruolo molto importante e per cui la città è stata presa prima dall'opposizione poi dallo stato islamico e in città c'erano ancora milioni di sfollati milioni no un milione più o meno di sfollati dalle città vicine tra quegli sfollati c'erano tantissime vedove tantissime donne che avevano perso i mariti chi in guerra chi sotto i bombardamenti e nel momento di massima crisi di massima miseria per quelle donne non rimaneva altro che la prostituzione per portare a casa del pane maggior ragione nel momento in cui viene evitato loro qualsiasi lavoro qualsiasi possibilità di lavoro nello spazio pubblico e c'è questo effetto paradossale per cui costringere donne a coprirsi completamente dalla testa ai piedi delle tende nere che si spostano in città salta il controllo sociale cioè nessuno sa più chi sia quella donna che sta uscendo da una casa ed entrando in un'altra casa per cui quella che doveva essere la grande morale la grande pulizia morale della città in realtà paradossalmente favorisce in un clima di miseria di disperazione un certo libertinaggio come dire poi nel libro le figure femminili che sono nel libro c'è la storia di questa infermiera che durante la stagione della protesta fa l'infermiera andranno in questi ospedali di campo messi in piedi per curare i manifestanti a cui si spara poi piano piano conoscerà il nostro protagonista si sposeranno e lei durante tutto il libro è quella che gli fa un po' da specchio il marito è quello che dalle manifestazioni lo arrestano prende le armi e va a combattere con lo stato islamico e lei nel privato nel domestico è quella che a un certo punto non lo riconosce più perché loro avevano cominciato insieme andando in piazza a protestare e a un certo punto lei non lo riconosce più ma eravamo scesi per la giustizia eravamo scesi per il cambiamento chi stai diventando chi sei diventato però lui è sordo e cieco quell'umanità lì che lei gli propone non la vede più poi c'è un'altra storia che è molto più drammatica che è una storia di una ragazza esida se vi ricordate quello è successo alle donne eside quando a un certo punto in Iraq lo stato islamico il Dola conquista queste montagne di Sinjar in kurdo Shingal dove vivono decine di migliaia di kurdi esidi gli esidi sono una religione una religione pre-cristiana pre-islamica che ha sopravvissuto a questi secoli di islamizzazione di cristianizzazione e vengono scomunicati in blocco dai giudici del Dola gli uomini vengono catturati vengono uccisi sul posto massacrati in fosse comuni le donne fatte schiave rivendute come schiave di guerra la schiave sessuale fondamentalmente e Faiza è una di queste ragazze che passa per mille peripezie che non vi sto qui a raccontare leggerete nel libro e poi la sua storia si chiude anche con un colpo di scena però insomma ci racconta cosa è stato quella stagione lì quel dramma dentro il dramma dentro la guerra e diverso chiaramente se vogliamo rimanere in Siria io su questo non ci ho lavorato insomma il libro questa storia non la racconta insomma potrei aver potuto scrivere altri libri su invece cosa è stato il ruolo delle donne nella società kurda tanto per fare un esempio piuttosto che in quella stagione del 2011 cioè finché la cosa è rimasta pacifica è rimasta in piazza anche le donne hanno avuto un ruolo c'è un libro molto interessante di Samar Yazbek lei è una dissidente un intellettuale una giornalista siriana fra l'altro la vita quindi appartenente diciamo a quella stessa minoranza a cui appartiene il presidente e una serie diciamo delle famiglie più potenti in Siria e lei invece da dissidente racconta soprattutto il mondo del femminile il titolo si chiama Passaggi in Siria e lei quindi da dissidente alla vita all'inizio della guerra dalla Turchia entra Idlib e incontra appunto i civili lavora molto sui civili e raccontano dal punto di vista femminile quella guerra quella cosa su servizi segreti servizi segreti servizi segreti diciamo non è l'esercito sono due cose diverse anche se in Siria ci sono persino servizi in Siria ci sono diversi bracci sono cinque bracci dei servizi segreti c'è un servizio segreto politico un servizio di loro chiamano servizio di sicurezza servizio di sicurezza politico c'è la sicurezza dello Stato c'è la sicurezza militare c'è la sicurezza dell'aeronautica cioè ogni sono diversi reparti spesso che lavorano nemmeno in comunicazione uno con l'altro che hanno delle prigioni riservate hanno delle indagini riservate per cui spesso succede che magari uno viene rilasciato da un servizio e preso dall'altro in Siria ogni Stato è diverso in Egitto ad esempio il potere reale è in mano all'esercito non tanto ai servizi in Siria il ruolo dei servizi era ed è tuttora molto potente molto importante e parliamo di uno Stato che ha alle spalle diciamo una lunga storia di guerra insomma non è soltanto l'attuale guerra non è soltanto la guerra che si è combattuta in Siria con il braccio armato dei fratelli musulmani siriani tra gli anni 70 e 80 i fratelli musulmani prima vengono espulsi vengono dichiarati illegali come partito insieme a una serie di altri partiti dopo il colpo di Stato in cui sale il potere Assad c'è una deriva diciamo autoritaria i fratelli musulmani vengono dichiarati illegali la mera appartenenza al partito è punita con il carcere e una frangia fuoriuscita dal partito sceglie la lotta armata appoggiata dall'Iraq di Saddam che aveva dei conti in sospeso con la Siria c'è sempre questa logica un regime laico che appoggia gli islamisti in Siria perché c'è sempre il nemico del nemico questi sono gruppi armati che sono stati sempre usati diciamo da chi aveva dei conti da regolare insomma comunque quel conflitto lì si conclude con la guerra di Haman nell'82 20.000 morti e anche lì i servizi siriani questa cosa l'avevano in qualche modo gestita come avevano gestito in Libano l'occupazione libanese ci sono dei testi della saggistica che queste cose le raccontano anche molto bene anni e anni di utilizzo di quei servizi per destabilizzare una serie di zone servizi molto esperti vi ho accennato prima il ruolo che avevano avuto i servizi siriani nei primi due anni della guerra di Akhena che anche lì era una doppia partita non è che improvvisamente quando i servizi siriani appoggiano al Qaeda in Iraq non è che sono diventati islamisti il regime siriano era ed è laico insomma oltre che il nazionalismo arabo l'antisionismo possiamo stare qui a fare una conferenza su che cos'è il regime siriano a livello ideologico al netto del potere della dittatura quando mandavano al Qaeda in Iraq per loro era una partita contro gli Stati Uniti che era visto come un paese nemico alleato di Israele all'epoca la Siria era considerata un paese dell'asse del male se vi ricordate i discorsi che faceva Bush allo stesso tempo per la Siria era un modo per togliersi di torno una serie di pericolosi jihadisti che stavano crescendo in casa in Siria perché l'Afghanistan perché l'Iraq per cui queste idee si iniziavano a diffondere c'erano centinaia di persone pericolose per cui anziché incarcerarle li mandavano a morire nel paese vicino a per levarseli di ritorno b per destabilizzare il paese che guardate la stessa cosa che hanno fatto in Siria i servizi sauditi i servizi turchi i servizi europei cioè voi pensate davvero che da Londra uno che sta sulla blacklist dell'antiterrorismo va in aeroporto prende un volo a terra di Istanbul e nessuno se ne accorge non soltanto se ne accorgono probabilmente qualcuno verificava anche che da Istanbul poi raggiungesse la frontiera e entrasse dall'altra parte che era un problema in meno a Londra ed era un fattore di caos in più in Siria diciamo queste strategie di destabilizzazione di caos ci sono state allo stesso tempo queste sono organizzazioni che esistono realmente che hanno una storia che hanno dei legami dei network dei fondi delle armi dell'esperienza non è tutto diciamo un giochino di servizi Salafidi qualcuno chiedeva a quietisti ma sì fondamentalmente tutto il mondo saudita diciamo così c'è questo revival religioso che è una cosa abbastanza recente se voi guardate delle cartoline di che cos'era la Siria di che cos'era l'Egitto negli anni 20 o 30 probabilmente vi stupirete perché insomma a livello di costumi erano molto meno diciamo conservatori bigotti di quello che sono diventato oggi e in questo l'Arabia Saudita chiaramente ha avuto un ruolo molto importante a partire dal XVIII secolo che annoio un attimo con un piccolo spieghino nel XVIII secolo questo clan dei Saud da cui Saudita si allea con un predicatore della zona della penisola araba un certo Ibn Abdel Wahhab Wahhab da cui Wahhabita forse qualcuno non ha sentito questa parola questo signore era un predicatore visto malissimo da tutti gli altri sheikh della zona perché era ultraconservatore si ispirava a dei testi di perfetti sconosciuti del IX del XII secolo teologi che non avevano avuto nessun ruolo fino ad allora nel sunnismo nemmeno nel califate nemmeno in quel momento in cui ancora si reggeva tutto sul diritto islamico Ibn Taymiyya questo pensatore siriano che nel XII secolo passa la maggior parte della propria vita in carcere proprio perché predica la guerra contro i musulmani il jihad contro i musulmani questa cosa del takfir tutto da lì nasce invece questo qua recupera quelle ideologie lì i Saud si alleano con questo signore che un po' lui gli porta l'ideologia per arruolare chi? arruolare gente che andasse a combattere contro gli altri clan della penisola araba quindi che gli giustificasse religiosamente la guerra contro altri musulmani per fare cosa? per conquistare quella che poi secoli dopo diventava l'Arabia Saudita ci sono in mezzo tanti altri passaggi che non vi ho non vi ho raccontato per semplificare però l'impianto è ancora quello c'è l'Arabia Saudita oggi c'è un clero diciamo così tra virgolette una parola sbagliata ma capite cosa voglio dire che appunto il mondo diciamo salafite che ha in mano diciamo tutti gli aspetti delle leggi interne della morale del paese e poi c'è una monarchia quindi un potere ereditario di padre in figlio in fratello che cura invece tutti gli aspetti economici tutti gli aspetti militari tutti gli aspetti di politica estera in barba al discorso religioso quando nel 90 quando Saddam invade il Kuwait vi ricordate la prima guerra del Golfo i sauditi spaventati che dal Kuwait Saddam li bombardi chiamano gli americani e portano centinaia di migliaia di soldati degli Stati Uniti in Arabia Saudita quello è l'inizio di un'altra grande crisi Bin Laden si scaglia contro gli americani sono i primi attentati perché considerato la peggiore delle cose possibili l'esercito degli infedeli che arriva sulle terre sante ce l'hanno portati Saud per motivi molto pragmatici di politica estera stessi motivi pragmatici per cui in Egitto appoggiano i militari contro gli islamisti contro i padri musulmani in Siria fanno il contrario sono partite che girano tutto intorno al potere non tanto anche il conflitto con l'Iran è una partita legata al potere poi al popolino gliela vendono come guerra fra Shiti e Sunniti ma c'è un conflitto di potere per l'egemonia in quelle zone in Siria in Iraq c'è Israele sullo sfondo in questo momento la Siria oltre che la Russia è nelle mani soprattutto dell'Iran e l'Iran è il nemico numero uno di Israele non soltanto dei Sauditi questa cosa ha molto avvicinato Israele i Sauditi sebbene dietro le quinte perché poi ufficialmente nessuno dei due si guarderebbe bene a dire che sono diventati ottimi amici però appunto quel salafismo che c'è in Arabia Saudita è un salafismo che è per definizione non politico perché se fosse politico insomma avrebbe altro che puntare contro la propria monarchia che in quel paese segue una linea che è tutto tranne che che religiosa e il problema è che a livello invece di ideologia religiosa è la stessa nel senso che a livello non politico ma religioso è lo stesso tipo di discorso che si fa in Arabia Saudita piuttosto che Arrakha piuttosto che in tante moschea in giro per il mondo che si ispirano al salafismo che sono magari a volte anche finanziate direttamente dai sauditi a livello religioso poi a livello politico invece il jihadismo che è un discorso di minoranza molto di minoranza dentro il salafismo rivendica la guerra la lotta armata per imporre quel modello religioso lì quindi non la politica non l'attività missionaria la predicazione ma la guerra quindi sono comunque legate a livello ideologico le due cose in modo pericoloso ora c'è questo re che dice di cambiare le cose sembra che le cose stiano non proprio andando come la racconta e beh sulla questione degli alawiti anche qui non vorrei annoiarvi troppo diciamo in Zira ci sono tante tante religioni tante minoranze gli alawiti furono politicamente fatti rientrare dentro dentro lo sciismo dentro la grande famiglia dell'islam sciita in un momento in cui appunto c'era questo problema che era stata scritta la nuova costituzione negli anni settanta una costituzione laica che per la prima volta in Siria cioè per la prima volta relativamente perché lo stato siriano nasce dopo che viene smantellato l'impero ottomano esce sconfitto dalla prima guerra mondiale Francia e Gran Bretagna che hanno vinto smantellano l'impero ottomano nasce la Siria nasce la Giordana l'Iraq Israele la Palestina i kurdi rimangono senza uno stato insomma una serie di casini comunque quello stato relativamente giovane dopo una serie di colpi di stato prima militari poi batisti di questo partito del Baat che è ancora al potere in Siria scrivono una costituzione laica in cui si scrive che tra i requisiti del presidente non c'è quello di essere musulmana e questo in un paese dove invece per secoli il potere economico politico era comunque stato in mano alla maggioranza sunnita del paese e una serie di famiglie importanti del sunnismo siriano genera una serie di proteste sono all'inizio degli anni 70 all'inizio di quello che poi diventerà sciopri casini il conflitto armato degli anni 80 e lì venne un po' trovata questa soluzione di comodo in cui un imam famoso imam sciita libanese Sadr se non sbaglio scrisse questa fatua in cui riconosceva che gli alawiti appartenevano comunque al mondo diciamo musulmano sciita dell'islam dell'islam sciita qui c'è questa diretriva politica dietro a questa recente diciamo definizione poi diciamo il conflitto è stato vissuto da un certo punto in poi in modo molto settario il regime siriano non è esattamente un regime settario è una cosa un po' più complicata nel senso che ci sono alcuni clan alcune famiglie molto potente non soltanto di Assad ma anche Shalish Mahlouf sono tanti nomi diciamo dei clan che hanno il potere reale economico il potere dei servizi i più importanti ufficiali dei servizi però il potere è anche spartito con le altre minoranze del paese cioè spartito con famiglie importanti in ogni città in ogni minoranza sono molto abili in qualche modo a gestire il potere e a creare il consenso così come è vero che non tutti gli alawiti hanno in questi anni mangiato diciamo così di quel potere insomma gli alawiti diciamo si avvicinano al potere fondamentalmente durante il mandato francese è un'ignoranza che ha sempre stato esclusa dal potere sia economico che politico in Siria durante il mandato francese invece vengono conoscono un grande potere e poi lo recuperano attraverso dopo il corpo del Baat però ancora oggi ci sono intere famiglie che non hanno visto una lira di queste cose qua ci sono importanti dissidenti importanti oppositori anche tra gli alawiti se si fa una statistica è il contrario nel senso che la maggior parte invece di quella di quella gente sicuramente spaventata l'idea credendo a questa propaganda che l'alternativa era soltanto il terrorismo si sono stretti intorno al governo e hanno anche pagato un prezzo molto alto in termini di sangue nel senso che se voi andate in tutte le famiglie alawite siriane che per la maggior parte hanno combattuto per il regime quindi arruandosi anche volontari per il regime non c'è una famiglia che non abbia avuto dei morti in battaglia e come dicevo prima mentre per i grandi ufficiali o le famiglie corrotte si possono fare una serie di discorsi su ragazzi diciottenni che vanno a combattere da una parte o dall'altra forse si possono farne anche altre questo per dire che la guerra non ha risparmiato nessuno in Siria ha fatto vittime tra tutti e questo sarà anche un tema è un tema della Siria di domani perché se anche la guerra finisce domani mattina comunque ci sono ferite che chissà quanti anni ci vorranno a rimarginare se si è buttato benzina sul fuoco da una parte e dall'altra inizialmente era una strategia del regime per dividere divide e timpera poi è stata una strategia invece dal lato opposto cioè quando hanno buttato invece benzina sul fuoco alimentando i movimenti salafiti i gruppi salafiti che portavano avanti un discorso puramente settario in cui a un certo punto la guerra non era più la guerra contro il regime ma era la guerra contro gli alawiti la guerra contro i disshiti la guerra contro l'Iran contro gli infedeli c'è un uso della propaganda che ha fatto dei morti ha fatto delle stragi dicevo prima nessuno ha le armi diciamo spuntate nei villaggi alawiti c'è stato un momento in cui appunto quando sono entrati hanno fatto un sacco di massacri tra i civili alawiti tra quelli che in teoria erano non si può vedere il regime le cose quando si parla di civili è tutto quanto un pochino più un pochino più complesso e quel tema lì della riconciliazione futura e della giustizia non ci andavo prima è il tema del futuro perché se se su quelle macerie lì se quelle macerie si chiamano pace poi tutti quei conflitti la rimangono inespressi e prima o poi tornano fuori che ora abbiamo fatto? mezzanotte no grazie Gabriele grazie a voi siamo veramente enchanté di tante conoscenze che ci hai generosamente dato possiamo dire io posso dire di averti visto crescere perché ci conosco da dieci anni e veramente raggiungi sempre dei traguardi superiori starà a noi fare buon uso di queste conoscenze e riuscire ad utilizzarli nella comunicazione con chi non è presente grazie per la vostra attenzione e abbiamo ancora un gioiellino un pezzo di Gian Maria Testa eseguito dai nostri amici musicisti grazie a tutti 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 grazie a tutti